Amiche e amici di BPM Power, eccoci insieme con un nuovo video. Oggi vi parlo della scheda madre Gigabyte X570 Aorus Pro, ma prima di iniziare vi invito se non l'avete ancora fatto a iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. X570 Aorus Pro presenta un design nero opaco con righe color argento come decoro. La scheda è conforme allo standard ATX, ovvero 305 mm x 244 mm, quindi si adatta alla maggior parte dei case. È basata sul chipset AMD X570 e fornisce pieno supporto per i più recenti processori AMD Ryzen serie 5000. Vi è un dissipatore in alluminio in ciascuno degli slot M2 che sono perfettamente removibili con un sistema a cerniera. C'è anche un dissipatore abbastanza grande nell'area del chipset, composto da un blocco di alluminio e una ventola turbina. Infine ci sono i dissipatori VRM, blocchi uniti da un tubo di calore in rame. Sono due blocchi in alluminio e alettati. Accanto alle porte M2 ci sono anche tre slot PCI Express per 16. Infine ci sono un paio di porte PCI Express per uno per schede aggiuntive più piccole. A completare le opzioni di archiviazione nella parte inferiore destra della scheda ci sono le intestazioni in SATA a 90 gradi. Le trovate qua. L'X570 Aorus Pro ospita un paio di piccole strisce RGB, una all'interno nel grande blocco coprelio posteriore e l'altra dietro la sezione in basso a sinistra della scheda M2 dove risiede la scheda audio integrata. L'alimentazione a 12 più 2 fasi fornisce una connessione di alimentazione 8 più 4 in alto a sinistra. I 4 slot DRAM sono dotati di Ultra Durable Memory Armor di Gigabyte, una tecnologia che previene la distorsione, la torsione o la del PCB e riduce la possibilità di eventuali interferenze. Il supporto della memoria di DR4 si estende fino a 128 giga ad una velocità di 4400 MHz. Sull'io posteriore troviamo 4 porte USB 2.0, un ingresso HDMI, 3 porte USB 3.0, 2 porte USB 3.1 tipo A, una porta di tipo C, una porta Intel Gigabyte LAN, 5 ingressi audio 3,5 mm e un'uscita ottica SPDIF. Potete trovare la scheda madre Gigabyte X570 Aeros Pro su bpmpower.com cliccando sul link che vi riporto qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete mi piace alla pagina Facebook e seguiteci su Instagram. Non dimenticate la campanellina perché c'è un bellissimo giveaway per vincere delle Apple AirPods proprio ora sul nostro sito. Ciao a tutti e alla prossima!